ciao a tutti benvenuti nel mio canale sono qui con un video fantastico gli attori turchi di successo oggi agiz e gokberk de mir ci hanno deciso di far rivivere la magia della loro collaborazione sul grande schermo l'amato duo che ha già conquistato i cuori con la sua innegabile intesa si prepara a onorare ancora una volta insieme gli schermi promettendo al pubblico teatro e intrattenimento oggi agiz e gokberk de mir ci hanno già condiviso lo schermo e hanno lasciato il segno con le loro prestazioni impressionanti e la naturale armonia sullo schermo le loro passate collaborazioni sono state accolte sia dai fan che dalla critica il punto è stato accolto positivamente dalla critica e questo ha reso i nostri attori di successo una coppia ricercata nel mondo televisivo turco i fan di oggi agiz e gokberk de mir ci sono rimasti piacevolmente sorpresi dall'annuncio della loro riunione sugli schermi il punto era l'originalità e l'originalità dei personaggi conosciuti per la loro capacità di dare vita al fascino il duo è destinato a conquistare ancora una volta il cuore del pubblico con un progetto imminente che promette dimostrare il profondità della loro connessione sullo schermo le piattaforme dei social media erano in fiamme per l'eccitazione mentre i fan celebravano la notizia della riunione di oggi agiz e gokberk de mir ci sul grande schermo grazie a tutti per aver guardato il mio video arrivederci ci vediamo nei nuovi video